Buon pomeriggio a tutti. Come funziona qui? Benissimo. Allora, come diceva Paolo, il campione è stato di 1318 agenti immobiliari, evidentemente associati alla federazione, e quello che ci interessava sapere sostanzialmente era lo stato di salute delle agenzie immobiliari, le modalità operative, il sentiment di mercato e un po' poi la visione della professione. La prima domanda che abbiamo fatto era qual era l'attuale forma giuridica dell'agenzia più utilizzata ed è, vediamo che per il 64% sono ditte individuali. La forma giuridica dell'agenzia per il 17% degli intervistati è variata dal 2008 a oggi. Diciamo che tutte quante le domande erano evidentemente concentrate tra il 2008 ed oggi, cioè il periodo chiaramente dalla crisi ad oggi. Quindi diciamo che il 17% ha variato la forma giuridica dell'agenzia e da quest'altra slide che ci porta sulle precedenti forme giuridiche mi soffermerei su quelle che sono le ditte individuali. In realtà c'è stato un aumento di quasi tutto quel 17% in ditte individuali. Quindi questo significa un ridimensionamento di quella che è stata la forma delle agenzie immobiliari. Quanto tra agenti e collaboratori operano nella tua agenzia titolare incluso? Qui vediamo che il 51% delle agenzie sono formate da un unico agente. La media attuale di addetti per agenzia è di 1,95, quindi diciamo di due addetti ad agenzia. Prima della crisi erano soltanto 450 le agenzie formate da un unico addetto e la media era di 2,6 addetti per agenzia. Quindi questo significa che la crisi ha portato via circa un 30% dei posti di lavoro all'interno delle agenzie immobiliari. Il 93% non è affiliato a nessun gruppo di franchising. Il 5% sì e un 2% a reti di impresa. Questa è una domanda relativa al numero di vendite e locazioni effettuate durante il periodo 2008-2015. Vediamo in realtà che ovviamente sommando i vari segni meno abbiamo una diminuzione di circa l'87% degli intervistati hanno avuto una diminuzione del numero di vendite e locazioni e circa, sommando evidentemente quelle percentuali che vediamo a destra, abbiamo circa il 60% in meno del fatturato delle agenzie immobiliari durante il periodo della crisi. Periodo in cui per il 47% degli intervistati è evidentemente aumentato il numero degli incarichi acquisiti. Questo insomma ha dimostrazione che c'è stata maggiore propensione da parte dei proprietari venditori a utilizzare e a servirsi delle agenzie immobiliari, visto che in realtà poi non si vendeva nemmeno. Quindi c'è stata questa maggiore acquisizione. Un dato molto interessante è che il 48% degli intervistati acquisisce gli immobili in forma esclusiva. Quindi questo è sicuramente un fatto estremamente positivo che ci fa capire che l'approccio dell'agente immobiliare nei confronti del mercato sta sicuramente migliorando. Questo è più una domanda relativa al sentiment di mercato, ossia come ritieni che si evolverà il mercato nel prossimo biennio e vediamo che in realtà il 49% sta sullo stabile, diciamo così. però c'è una fiducia perché la parte positiva è sicuramente superiore alla parte negativa. Quindi c'è grande fiducia da parte dei colleghi relativamente al mercato. abbiamo fatto cinque domande delle quali bisognava sceglierne due azioni che potevano essere utile per la ripresa immobiliare e vediamo che la maggior parte delle risposte, precisamente il 27% e il 24%, quindi in totale il 51% dei colleghi, ha identificato nella maggiore diminuzione fiscale nei confronti o dell'immobiliare in generale o sulla proprietà immobiliare, mentre l'abolizione dell'IMU sulla prima casa soltanto il 4% lo ritiene essere importante per una ripresa del mercato. Qui torniamo ad una risposta molto positiva da parte degli agenti immobiliari che ci fanno capire che credono molto nella loro professione, nella figura del mediatore. Perché il 91% non riesce ad immaginare una società moderna senza la figura professionale del mediatore. Così come sempre il 91% ritiene che la figura del mediatore svolge una funzione ancora importante nella società moderna. Questa slide, qui dobbiamo fare una distinzione tra le varie risposte. Il risultato in realtà è che circa il 55% delle compravendite vengono effettuate con l'intervento di un agente immobiliare. Praticamente è la media di quelle varie percentuali che vedete sulla destra. Ovviamente il 79% ritiene assolutamente necessaria più aggregazione e collaborazione tra i colleghi. Quindi anche questo è un segnale di fiducia nei confronti dei colleghi e quindi del mercato. C'è la grande disponibilità di tutti gli agenti immobiliari a mettersi in gioco perché il 95% degli intervistati sono disponibili a corsi professionali per migliorare l'immagine del nostro ruolo. Così come il 94% ritiene che un'azione di marketing forte sul mercato sia utile per migliorare l'immagine dell'agente immobiliare. Ora, questa credo che sia una slide importantissima perché l'89% degli intervistati intende e interpreta l'attività di agente immobiliare come professione e non come ausiliario del commercio. Così come il 91% degli intervistati ritiene irrinunciabile la posizione di terzi età dell'agente immobiliare. Il 91% è assolutamente disposto ad apportare eventuali cambiamenti per garantirsi un futuro di libero professionista dell'intermediazione immobiliare. Quindi per avere sempre di più l'immagine di professionista e non di ausiliario del commercio. Così come il 60% ritiene che le incompatibilità previste alla 39-89 sono da ostacolo al miglioramento della nostra attività lavorativa. Quindi in realtà noi pensavamo a un risultato maggiore, è sicuramente la maggioranza, però pensavamo ad una percentuale più schiacciante. Secondo te fino al 2008 che percezione aveva il consumatore della figura professionale dell'agente immobiliare? Anche qui vediamo che per il 56% era neutrale, però andava più sul negativo. Mentre invece se andiamo alla slide successiva, cioè oggi la percezione che ha il consumatore della figura professionale dell'agente immobiliare è migliorato perché la parte neutrale viene bilanciata da una parte migliorativa. Le slide sono finite, prima Paolo mi ha tolto una cosa che volevo dire, cioè che forse effettivamente noi abbiamo sbagliato il titolo di questa indagine perché il futuro, se l'avessimo fatto nel 2007 probabilmente l'avremmo definita bene, però visto che stiamo nel 2015 e che il mondo in realtà è già cambiato diciamo che il futuro è oggi. Io credo che ci sia la consapevolezza da parte di tutti quanti noi ad affrontare la professione e a raggiungere quel ruolo di professionisti che meritiamo. A parte che poi stiamo cavalcando anche, forse non ce ne rendiamo conto ma in questo momento c'è un vero e proprio cambiamento culturale perché già noi non intendiamo più i nostri colleghi come concorrenti ma li vediamo come risorse per poterci collaborare o per poter condividere. E credo che su questa strada che noi dovremmo andare avanti fa parte di quello che sono gli obiettivi di FIAIP. Noi ovviamente non siamo nelle condizioni e né vogliamo imporre nulla a nessuno però gli orientamenti che stiamo dando fino a questo momento sia da un punto di vista politico che da un punto di vista operativo e mi riferisco agli MLS, mi riferisco ai corsi di formazione, mi riferisco ai corsi di alta formazione sono tutti quanti tesi a quell'obiettivo. Il tema della professione che sarà sicuramente centrale in quella che starà l'agenda del prossimo biennio. Su questo c'è il nostro massimo impegno sia mio che del Presidente che ritengo di tutto il comitato esecutivo. Grazie.